ciao a tutti oggi è giovedì 3 maggio 2018 sono qui nei giardinetti del largo maestri del lavoro d'italia allora innanzitutto vi voglio fare vedere una cosa vedete in fondo lì qui c'è una panchina vedete che è stata sradicata da questo punto qui vedete esattamente da questo punto perché noi cementiamo le panchine sulla terra vedete questi sono i blocchetti di cemento che sono stati seminati perché il cemento si può anche seminare forse voi non lo sapete e la panchina è stata spostata lì forse per avere una visione più panoramica vedete la panchina dov'è e poi dopo c'è un'altra cosa due anni e mezzo fa in questi giardinetti è crollata una pianta che è andata a sbattere su questa ringhiera è stata abbattuta è stata tagliata ed è rimasta qui per la bellezza di sei mesi allora poi dopo insistenze si sono degnati di togliere i tronchi tagliati però vedete questo qui è quell'insegna che c'è anche dall'altro ingresso allora vedete questo qui è in queste condizioni dalla bellezza di due anni e mezzo e non è ancora stato né tolto e neanche rimesso in sede come è previsto vedete qui c'è il granito che è spezzato dalla pianta qui qui abbiamo tutti rovi vedete qua ci sono tutti rovi con una parvenza di siepe davanti parvenza allora a parte tutta l'immondizia che c'è qui dentro questo giardinetto qua è un giardinetto abbandonato a se stesso sono venuto qui con un mio collega con anzi pardon rettifico con un mio amico ci ho passato tre domeniche e l'avevamo pulito abbiamo fatto la bellezza di otto sacchi tra bottiglie di vetro carta plastica e purtroppo anche merde abbiamo fatte su con scopa e paletta questo è quello che è stato fatto va bene allora io vi saluto e ci si vede in un altro video va bene ok ciao a tutti